Lei ha voluto questa conferenza stampa oggi ma credo che più che spiegare le sue motivazioni ha voluto anche fare una denuncia su quello che la politica ha rappresentato per questa città. Non è una denuncia ma è una presa d'atto di ciò che è stato, di ciò che si è fatto, di ciò che si sarebbe potuto fare, di ciò che non si è potuto fare e cosa che purtroppo non si farà più. Era giusto che i cittadini, prima di tutto i cittadini che mi hanno eletto e che mi hanno votato, avessero una spiegazione di quello che sta accadendo e di quello che è accaduto. E prima di tutto loro. Poi, ripeto e ribadisco, lo devo a tutti i cittadini perché io in questi tre anni e mezzo ho rappresentato tutti i cittadini, nel bene e nel male. E quindi la responsabilità di dire le cose come stanno e di come sono andate era giusto che lo facessi. Lei ha voluto sottolineare tutta quella che è stata la sua attività, insomma, gli impegni che ha assunto e le risposte che ha portato a Crotone. Era doveroso perché qualcuno ha sentito chiusura di esperienze fallimentari, qualcuno della posizione ha detto un'esperienza fallimentare, un'esperienza fallimentare. Intanto io direi, prima di parlare di esperienze fallimentari, vi ho detto solo una minima parte del lavoro immane che è stato fatto. Inviterei coloro i quali parlano di esperienze fallimentari a fare prima di tutto un'autocritica, a dire che cosa abbiamo dato noi a questa amministrazione, pur essendo consiglieri di minoranza, consiglieri d'opposizione, consiglieri di maggioranza. Adesso sto dicendo un po', facendo una valutazione di tutto ciò che è stato in questi anni. Lei è molto provato, questo perché, insomma, per tutto quello che è successo in questi anni, per gli ultimi fatti, per l'intervento della magistratura. Che cosa l'ha messo in una condizione di sofferenza, come si vede chiaramente? La sofferenza, prima di tutto, di lasciare la città in queste condizioni. Questa è la cosa che mi sta turbando e che mi turba quotidianamente. So che cosa c'è in campo e so che lasciare così la città sarà un dramma. Ma purtroppo, ho detto e ribadito più volte, non ci sono le condizioni, ma neanche quelle decantate verbalmente da qualcuno, come ho detto, che ringrazio, oppure per avermi tirato la giacca in questi giorni per cercare di farmi ritirare le dimissioni, ma ai quali ho detto, ragazzi, non c'è nessun presupposto. Perché al di là di quello che si dice verbalmente, nel momento in cui si chiede, ok, fatemi vedere qual è la lista di nomi sottoscritti che appoggiano il sindaco, è diventato tutto evanescente.